Perché è una manifestazione per i valori del patriottismo repubblicano, un'unica grande bandiera, il tricolore, i valori costituzionali e repubblicani che oggi sono pesantemente attaccati attraverso l'attacco alla magistratura, alla corte costituzionale, alla scuola pubblica statale. Aderire alla manifestazione il 12 marzo perché il centrodestra sta cercando sempre più di innalzare uno scontro tra le istituzioni dello Stato. Bisogna mettere un argine perché la situazione rischia di diventare pericolosa non per tre giornalisti e quattro magistrati ma per 50 milioni di italiani e passa.